Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Parigi, la capitale francese, è diventata il centro del mondo dello sport con l'apertura delle Olimpiadi il 26 luglio 2024. Lo spettacolo di luci e colori ha dato il via ai giochi con la presenza di Bebe Vio durante la cerimonia d'apertura. La cerimonia è stata caratterizzata da una serie di spettacoli, danze e canzoni e grandi ospiti che hanno accolto il mondo olimpico con un evento creativo di grande impatto. Bebe Vio, atleta paralimpica di grande talento, ha sfilato con un abito decorato da piume colorate e paillettes, mostrando grande gioia ed emozione durante la passerella. L'apertura ufficiale delle Olimpiadi del 2024 ha raccontato la storia della Francia attraverso la mescolanza degli stili musicali, il contrasto tra formalità e normalità e l'omaggio alle grandi donne del passato e del presente francese, insieme ai monumenti simbolo della città. La cerimonia ha avuto come protagonista l'acqua non solo per la presentazione degli atleti sulla Senna a bordo di imbarcazioni, ma anche per la pioggia battente che non ha fermato gli atleti, ballerini e cantanti come Céline Dion dal regalare uno spettacolo indimenticabile. Parigi si prepara a ospitare le Olimpiadi moderni per la 33esima volta, con un mix di tradizione e innovazione che promette di andare a quest'anno di questa edizione morabile per tutti i penati.